Dottoressa Cameron, venga presto, ebbia qualcosa che non va. Non può essere niente, il monitor avrebbe suonato. Non è il cuore, perde sangue. Una ricetta a nome Zebaluski. È un paziente del dottor Wilson? Sì. Wilson è occupato al momento. Beh, con il signor Zebaluski agonizzante per via del suo tumore ai polmoni in fase terminale, non avere le pillole per alleviare tale agonia per la pignoleria di un farmacista... Fermi il registro. Grazie a tutti.